Elia e Jane sempre più uniti dopo il GF VIP 2018.Un bel traguardo per una coppia su cui in pochissimi avrebbero scommesso Elia e Jane continuano infatti a vivere felici la loro storia d'amore dopo il grande fratello VIP 2018 e a dimostrare che in fondo in tanti si sbagliavano Ricorderete senz'altro infatti che durante il GF VIP Elia è stato criticatissimo per il suo atteggiamento un po' troppo freddo nei confronti di Jane, persino quando uscì dal reality show un mese fa circa E il post pubblicato da lui oggi fa riferimento proprio a un mese fa. Veniamo subito al dunque Il post di Elia su Jane dopo un mese dell'eliminazione, ricordi sul GF VIP.Se andate a spulciare le storie di Elia su Instagram noterete che l'ex Geffin ha condiviso una foto di una pagina dedicata a Jane Alexander che mostra entrambi il procinto di dibacciarsi Sulla foto c'è scritto un montago con chiaro riferimento a quando Jane fu eliminata dal GF VIP 2018 e poter rivedere il suo cavaliere Da allora ne sono successe di cose, uno scoop lanciato poco prima della fine del GF mise in discussione la credibilità della coppia e la stessa Jane ha aggiornato tutti proprio ieri su quello che sta accadendo tra lei ed Elia Non si può parlare insomma di calma piatta, visto che i due sono ancora al centro del gossip nonostante sia passato tanto tempo Grande fratello VIP, la storia d'amore tra Elia e Jane a gonfivele.Elia peraltro ha smentito coi fatti tutti i pettegolezzi sul suo scarso coinvolgimento nei confronti della sua principessa, continua a pubblicare foto insieme, condivide post come quello di cui vi abbiamo parlato oggi e sembra davvero sicuro della storia con Jane Sono post bellissimi che talvolta sorprendono, come già successo di recente con Francesco e Giulia, altra coppia del GF VIP che ha ricevuto un messaggio inaspettato da un membro della famiglia Tutto sta andando bene insomma in questa vigilia di Natale. Ci avreste mai scommesso? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like